Anticipazioni e spoiler Terra Amara, nelle nuove puntate che saranno trasmesse nella prossima settimana di luglio, Demir farà recapitare alla villa un mobile contenente un giradischi proprio da donare a Zuleyla per provare a conquistarla e sicuramente a farlo innamorare di lui. Sermin, sua cugina a questo punto, apparirà tanto invidiosa di quel gesto, tanto da dare ascolta all'amica Fusun, e deciderà così di andare da una curatrice per procurarsi dell'erbe che sono capaci di provocare un aborto a Zuleyla, quindi vuole avvelenarla. Sermin preparerà questo infuso di erbe per poi aggiungerla a un dolce che verrà riposto in frigo da servire proprio a Zuleyla. Il dessert però verrà mangiato da suo marito, l'ignaro Sebastian, che inizierà ad avere dei lancinanti dolori alla pancia. Ed è così che in breve tempo suo marito scoprirà che Sermin aveva intenzione di provocare un'interruzione di gravidanza proprio alla povera Zuleyla. Le condizioni di salute del dottore così peggioreranno ulteriormente tanto che deve essere costretto a recarsi in ospedale. L'uomo sarà poi sottoposto a una lavanda gastrica e decide così di raccontare tutto a Demir. Ma Sermin non si ferma e cercherà un altro piano per poter distruggere la povera Zuleyla. Con l'aiuto infatti della cameriera Sani troveranno un serpente e lo metteranno in camera sua sperando che la morda durante la notte. Ma così non accade perché Zuleyla si sveglia il giorno dopo, vede il serpente e dalla paura cerca a correre aiuto. Ma cade dalle scale rotolando completamente e avendo improvvisamente dei dolori forti che la porteranno a partorire. Questo e tanto altro nella prossima settimana di Terra Amara. Tu dimmi cosa ne pensi se ti va, iscriviti, lascia il mio like e attiva la campanellina perché così non ti perderei questo ma nessun altro prossimo video.